Dopo le mareggiate dei giorni scorsi che hanno gravemente danneggiato le strutture del Cursale e dello stabilimento dell'esercito a Ostia, la consigliera del decimo municipio Monica Picca chiede la tutela delle spiagge. Questi episodi fanno emergere il cronico ritardo sui lavori di messa in sicurezza, ha commentato, lentezze che ricadono sull'indotto turistico e sugli operatori. Presenteremo un'interrogazione chiedendo conto all'amministrazione di verificare l'operato della regione. Sulla questione è intervenuta anche la consigliera regionale Laura Corrotti. Mi farò portavoce di questo tema in consiglio, con atti a tutela di oltre 20 chilometri di costa della capitale, ha affermato. Immediata la replica dell'assessore Mauro Alessandri, per la messa in sicurezza delle spiagge di Ostia abbiamo investito 9 milioni di euro, ha spiegato. I lavori in difesa della scogliera sono attualmente in corso l'idroscalo. Allo stesso tempo ci sono cantieri aperti per il dragaggio di Fiumara Grande, che permetteranno di portare avanti il ripascimento di Ostia Levante e Ponente. Inoltre abbiamo previsto interventi di natura straordinaria sulle opere rigide, quali pennelli e soffolte, attualmente in corso. Le polemiche non ci interessano, ciò che conta sono le opere da portare avanti seguendo la programmazione che abbiamo studiato e stabilito, ha concluso Alessandri.